Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, un'altra domenica intensa per la città, in questo caso anche per Frazione Muriaglio, che si dimostra sempre attenta, composta da un nucleo di persone che ha voglia di far conoscere il territorio canavesano, non solo quelle castellamontese. Assolutamente sì, e noi certo, la città di Castellamonte è il centro e otto frazioni, ed è evidente che noi siamo orgogliosissimi di quando vengono fatte queste manifestazioni, quando vengono eseguite queste manifestazioni. Oggi è stata una cosa eccezionale, io davvero faccio i complimenti alla filarmonica di Muriaglio, ma a tutti i muriagliesi, perché davvero 43 opere presentate al concorso sono tantissime. Ho avuto modo di dirlo prima, in altre realtà ben più grosse delle nostre le partecipazioni sono più risicate, quindi complimenti davvero all'amministrazione, buona la prima e siamo pronti per la seconda a collaborare. Chiaramente l'amministrazione comunale c'è. Castellamonte che si conferma città legatissima alla cultura, naturalmente tanta ceramica in primo piano, in questo caso pittura, un'estemporanea, che come giustamente ha sottolineato il sindaco, ha portato tantissimi artisti che hanno conosciuto anche un pezzo di territorio che forse non conoscevano prima. Esatto, e beh questo è anche uno degli scopi della cultura. La cultura è anche ricettività, è anche crescita non solo culturale, ma anche proprio crescita dal punto di vista turistico del nostro territorio, quindi ancora di più ha valore questo tipo di manifestazione. È evidente che la città di Castellamonte sta puntando molto sulla cultura, chi sostiene che la cultura non dà da mangiare e sostiene evidentemente non sa di cosa parla, perché la cultura fa anche mangiare e oggi ne è la più grande dimostrazione. Quindi siamo, ripeto, siamo prontissimi a lavorare assieme alla frazione di Muriaglio, ma assieme anche a tutte le altre frazioni della città, affinché questo tipo di eventi vengano promossi e riescano bene. Claudio Bettaz, la fine di una giornata intensa a Muriaglio per Piemonte Colors, un'estemporanea che ha portato a tantissimi artisti e tantissima qualità e cultura, ancora una volta è una frazione che è sempre molto viva e una Castellamonte che continua a regalare momenti belli come questo. Sì, momenti belli, momenti di alta cultura e di valorizzazione del territorio. Devo dire che a Muriaglio, come in tante frazioni, c'è una comunità di persone, una rete di associazioni veramente viva che non si ferma mai nella sua opera di valorizzazione del territorio. Hanno ideato questa estemporanea, quindi una giornata che ha richiamato quasi una cinquantina di artisti, di pittori, che hanno realizzato altrettanti quadri, ognuno dei quali rappresentanti uno scorcio della frazione. I primi tre hanno ricevuto un premio in denaro e i quadri realizzati, i quadri vincitori, rimarranno nei locali dove ci troviamo, della società filarmonica di Muriaglio, che è stato l'ente capofila di questa manifestazione. Il comune non può che collaborare volentieri alla realizzazione di questo tipo di eventi, che richiama artisti e visitatori da tutta la provincia. Da assessore da Castellamontese la soddisfazione ancora una volta per una città, per le sue frazioni, per una realtà canavesana che è sempre più viva. Sempre più viva ed è la dimostrazione che con la cultura si mangia perché i tre artisti hanno portato a casa anche il premio in denaro, ma la frazione di Muriaglio, grazie a questo evento culturale, si è popolata durante tutta la giornata di visitatori che altrimenti non sarebbero qui, le attività commerciali hanno lavorato e i visitatori hanno potuto conoscere gli scorci e le bellezze del nostro territorio e perché no anche i prodotti tipici culinari ed enogastronomici. Paola Buzzi che è la curatrice di questo Piemonte Colors alla prima edizione a Muriaglio che ha avuto un successo enorme, con lei appunto tracciamo un bilancio di una giornata che ha portato tantissimi artisti ma anche tantissima gente in questa frazione di Castellamonte che si è dimostrata vivace e accogliente. Grazie, infatti è stata una grandissima soddisfazione perché è la prima volta come esperienza artistica riguardo la pittura e abbiamo avuto un'adesione incredibile. Addirittura ci hanno detto esperti in estemporanea che abbiamo superato su Torino e provincia tutto il massimo di livello di partecipanti, infatti abbiamo avuto più di 50 iscritti. È stato bellissimo, è il livello molto molto alto artistico ed è stato molto difficile premiare i vari artisti. Infatti nel corso della premiazione avvenuta poco tempo, poco fa, voi tra l'altro avete anche sottolineato che c'è stata non solo tecnica ma anche qualità per ciò che riguarda i colori, la fantasia, quindi veramente dei quadri che sono l'espressione di artisti di livello. Sì, infatti veramente è stata variegata l'esperienza perché non solo per la competenza tecnica molto elevata ma anche la fantasia, le novità nel colore, ad esempio per quanto riguarda l'acquarello non in forma troppo tradizionale ma un po' innovativa e addirittura un quadro è stato premiato con effetti materici e con applicazioni di vari colori materiali misti, quindi è stato veramente un po' una novità nel settore. Quindi questa prima edizione si chiudeva in archivio in maniera molto positiva significa che a questo punto bisogna lanciare l'appuntamento già per l'anno prossimo. Speriamo, cercheremo di anzi di proporre ancora altre cose, altre nuove, ci sono dei progetti in corso e vorrei invitare, spingere un po' questa iniziativa e invitare anche i giovani artisti e non solo quelli abituati. Giornata direi riuscitissima quella di Piemonte Colors che ha portato decine di artisti in quella di Muriaglio tantissima gente che è venuta a vedere questa giornata eccezionale tracciamo un bilancio con Claudio Berserat che è il presidente dell'associazione Filamonica Muriagliese che diciamo che è l'anima, l'associazione che è l'anima di questa prima edizione, ripetiamo, riuscita a pieno. Sì, è stata una giornata credo indimenticabile per Muriaglio che come sapete è una piccola frazione del comune di Castellamonte con tutti i problemi tipici delle frazioni che conoscono abbandono, spopolamento, un territorio spesso o volte non neanche conosciuto. Quindi l'obiettivo primario di questa estemporanea era esattamente quello di dare visibilità al nostro territorio. In un'ottica di regalare a artisti e anche a tutti noi della frazione una giornata di emozione. Insomma ridare almeno per un giorno a questa frazione un momento di festa, un momento di allegria e se mi permettete da muriagliese anche un momento di orgoglio per essere muriagliese. Nel corso della premiazione però ha ricordato come Muriaglio è sempre stata una frazione molto vivace che crede fortemente nella socialità e appunto ancora oggi l'ha dimostrato portando centinaia di persone in una giornata anche che sotto il punto di vista meteo ha sicuramente aiutato ma che ha permesso a questa gente di conoscere la frazione Castellamonte ma anche quelle che sono le peculiarità di questa zona del Canavese. Sì, direi che nonostante il problema dello spopolamento che nel corso dei decenni ha conosciuto la frazione le associazioni della frazione hanno saputo mantenere una loro vitalità hanno saputo mantenere diciamo lo spirito di iniziativa e quindi anche inventarsi nel corso del tempo eventi nuovi tipo l'estemporanea di oggi. Abbiamo iniziato non dico per scherzo ma ovvio con tante incognite e questa sera posso dire che siamo veramente diciamo non voglio dire orgogliosi ma contenti per come sono andate le cose, per il riscontro che abbiamo avuto sia in termini di artisti che hanno aderito a questa iniziativa e anche il riscontro proprio di pubblico. Mi sono permesso di chiedere durante la premiazione agli artisti un loro giudizio sulla giornata di oggi al di là delle valutazioni di merito e dei premi che sono stati riconosciuti. Vi posso dire che la parola più ricorrente è stata accoglienza. Ci siamo trovati bene, avete fatto molto, torneremo. Questo come dire è la più grande gratificazione di tutti i nostri sacrifici. A questo punto come tra l'altro avete anche stato allenato in chiusura di giornata Piemonte Colos ha avuto successo a questo punto. Rimandiamo l'appuntamento all'anno prossimo e invitiamo gli artisti a tornare anche più numerosi. Assolutamente penso di sì, non è una decisione soltanto mia, dovrà essere condivisa ma credo che dati i risultati non ci siano dubbi che verrà ripetuta l'esperienza.